Cari amiche e cari amici, riprendiamo allora con la lettura del canto di Guru Nanak. Allora, il Guru è il segreto che risolve l'enigma. Il Signore è il benefattore di tutto. Possa io non dimenticarmi mai di Lui. Quindi, abbiamo visto l'importanza che Guru Nanak pone nella figura del Guru. La parola Guru viene da un vocabolo, Gur, che significa tecnica o metodo. Di conseguenza, il Guru è colui che dà il metodo. E' questo a cui fa riferimento Nanak, quando dice Il Signore è il benefattore di tutto, possa io non dimenticarmi mai di Lui. Il Signore è l'artefice e io devo ricordarmi sempre questa verità, cioè che Dio è nascosto dietro ogni cosa. E affinché io non possa mai dimenticarmi del Signore, devo seguire Gur, una tecnica, un metodo, che mi è affidato da un Guru che è nel cammino. Il Guru ti dà le indicazioni, ti dà il metodo. Praticando la disciplina, praticando il metodo, ti accorgi che questo flusso della vita, che non è altro che il Divino, scorre continuamente dentro di te. Le difficoltà esistono, continueranno a esistere. La vita è fatta di difficoltà, di sofferenze, di dolore. Però, per evitare che questi dolori poi ci portino a vagare così senza meta, dobbiamo avere l'esperienza interna del Dharma. E allora Nanak ci dice che se attraverso le indicazioni del tuo maestro spirituale e cominci a vedere Dio in tutte le cose attraverso e a ricordarti di Lui in tutte le cose che fai, tu evolverai e ti realizzerai. E c'era un altro bueta indiano che diceva una frase bellissima, diceva solo colui che è pronto a bruciare la sua casa, solo colui può camminare con me, solo colui che è pronto a bruciare la sua casa, solo lui può camminare con me. E bruciare la sua casa ovviamente si riferisce all'ego, ai nostri desideri egoici. Quindi ricorre sempre questo tipo di abbandono. E allora possiamo riassumere dicendo questo, che ogni azione fatta con l'attitudine della non-azione, ossia quando agiamo nella non-mente, necessariamente agiamo correttamente, perché agiamo nel Dharma, agiamo in armonia con l'infinito. Il peccato nasce dall'idea del fare. L'ego è colui che si illude di fare. Le cose accadono. La grande illusione è che io sto facendo, io mi sto organizzando, io sto progettando il futuro. Le cose in realtà accadono. Dunque bisogna staccare la spina da questa esaltazione continua del fare. e cominciare a fluire con le cose, ad abbandonarsi alle cose che accadono. E attenzione perché Krishna nella Bhagavad Gita Tarjuna dice la stessa cosa perché a un certo punto lo invita proprio ad abbandonare l'idea di agire, di essere lui che conduce le sue azioni. E gli dice, lascia che io agisca attraverso di te, gli dice Krishna ad Arjuna. Di conseguenza non prendere decisioni nel caso di Arjuna su cose giuste e cose sbagliate, perché Arjuna si rifiutava di combattere, non nella battaglia perché non voleva uccidere, nelle file nemiche ha riconosciuto anche dei suoi amici, dei suoi parenti, non voleva più combattere. E Krishna dice, lascia a me decidere, tu abbandonati al flusso, sei un guerriero e devi combattere. Quindi tutto l'altro tipo di problematiche, va bene, che non riguardino la tua azione presente nel combattimento, di quelle me ne occupo io. E questo è il messaggio che dà Krishna. È per questo un atto di umiltà. Io ho coniato un detto, che a volte pubblico anche negli sfondi del canale, che il tuo inginocchiarti sia sempre un atto di umiltà e mai un atto di sottomissione. e allora bisogna essere umili e renderci conto, ma la mia visione, quanto può essere vasta? La mia mente, la mia razionalità, fino a che punto può portare avanti le mie conoscenze? E allora cominciando a riconoscere i propri limiti, quello è il primo passo, cominciare a riconoscere che noi dobbiamo fare un grande atto di umiltà, riconoscendo i nostri limiti, riconoscendo che noi non andiamo da nessuna parte, e che tutto quello che facciamo è sbagliato, o se vogliamo parlare in terminologia cristiana, è peccato, se è fatto, se la nostra azione non parte dall'essenza, ma parte dall'ego. E Nanak ci dice che chi segue gli insegnamenti del guru e il metodo può essere un Sikh. E anche qui è interessante, perché la parola Sikh, da cui Sikhismo, i Sikh sono quelli che appunto hanno come guru Nanak, come punto di riferimento essenziale, come i buddhisti hanno Buddha, i cristiani hanno Gesù, e i Sikh come maestro spirituale hanno guru Nanak, e la parola Sikh è una parola anche questa presa dal sanscrito, che significa colui che apprende. E quindi questo è molto bello, perché nella parola Sikh è compleso un atteggiamento di umiltà, Sikh è colui il quale è pronto ad imparare, ad ascoltare gli insegnamenti. Chi invece ancora è pieno del suo ego non è un Sikh, perché non è pronto ad imparare. E anche quando si ha un contatto con un maestro spirituale, se si è umili, immediatamente inizia il processo, va bene? Se si frappone l'ego, tratta il maestro, iniziano i problemi. E questo, ben chiarire, non è che uno deve diventare un robotizzato, come molti falsi maestri, come molti falsi guru che si appropriano della mente degli allievi, gli levano un sacco di soldi, li condizionano e gli fanno fare quello che vogliono loro. Assolutamente, queste sono porcherie, queste sono schifezze, non c'entra nulla questo discorso. La sottomissione reale al guru, la sottomissione sana, è seguire le indicazioni dharmiche del guru e sentire gli effetti nella propria interiorità. Il bravo maestro è colui che dà gli strumenti al discepolo per sentire il divino dentro di sé e per capire da subito che ha imboccato la via del dharma, perché il processo di armonizzazione inizia subito. Poi ci si può dividere, proprio perché non è che il maestro deve rendere robò gli altri. Quindi, ad esempio, un maestro può avere delle idee politiche e l'allievo può avere altre idee politiche. Il maestro può prediligere un determinato cibo e l'allievo un altro cibo. Non è che il maestro deve robotizzare le persone. L'insegnamento avviene in maniera specifica relativamente al dharma, all'esperienza del divino. E allora, ecco che Sik è colui che apprende. Chi è pieno del suo ego non è Sik. Poi ci si può, come girando per i video, vediamo tanti guru, tutti i vestiti di arancione, o erico il bastone da sadhu, seduti su dei troni, ma non è quello il punto. Perché anche un Sik, ad esempio, può indossare il turbante, può farsi crescere la barba, ma non è Sik, va bene? se non è disposto a fare questo atto di umiltà, a inginocchiarsi, non come atto di sottomissione o debolezza, ma a inginocchiarsi come atto di umiltà, saper riconoscere che il divino è qualcosa di gigantesco, qualcosa di enorme, e saper riconoscere che il maestro spirituale è l'elemento più prezioso, non in quanto persona, perché il maestro spirituale ha un corpo, ha i limiti di tutti gli esseri umani, ha le sue debolezze, ma il maestro spirituale è la cosa più preziosa di questo mondo perché ti dà gli strumenti per sperimentare il Dharma, per incanalarti nel Dharma. E allora ecco un altro punto di Nanak mi viene in aiuto adesso quando dice un attimo che colui il quale ascolta solo l'insegnamento del guru fa sì che la sua conoscenza diventi un gioiello prezioso. E qui ma sapete quanti amici prendono contatto, mi sentono in Skype, mi chiedono, mi scrivono in privato posso sentirti, ci sentiamo in Skype e mi fanno perdere un sacco di tempo poi, soprattutto questi, quelli che hanno a che vedere con la new age, quelli sono specialisti nelle perdite di tempo, perché siccome la new age è una immondizia pura e perdita di tempo, a volte ci sono stati vari amici anche nel sangue, c'è un processo di disintossicazione da quell'immondizia che va per cominciare a percepire poi in maniera molto forte il Dharma, l'essenza e la propria interiorità. La new age non è che è innocua, la new age come benefici può anche farti rilassare e così, ma è talmente forviante mischiare tutte queste discipline, queste cose, e soprattutto quello di cui ci si convince, cioè che dicono i sostenitori della new age, e spesso richiede proprio un lavoro di disintossicazione anche da questo. Puoi ascoltare migliaia di cose della new age, un giorno andare a fare la sanza sufi, un altro giorno andare a fare, a suonare il tamburo dei nativi americani, un altro giorno la campana tibetana, quello che ti pare. Ma se continui così non accade nulla, tutt'al più ti rilasserai, quello non fa male. Bene? E va bene, sei più rilassato, sei più sereno per, magari anche per un'ora, così, ma non c'è trasformazione interiore, non c'è trasformazione interiore, la trasformazione interiore è determinata non dal fatto se stai bene o non stai bene, se senti l'energia mentre fai i reghi o no, non è quello. La trasformazione interna è esclusivamente associata al pensiero compulsivo. La conoscenza di se stessi implica un ridimensionamento del pensiero compulsivo. Se tu hai questo tipo di conoscenza è legata alla diminuzione del pensiero compulsivo e allora sei sulla retta via, altrimenti stai buttando tempo. E per capire le dinamiche del pensiero compulsivo serve un maestro. Poi c'è una propria autonoma, è come per il bambino, cresce, serve la mamma, serve il papà, che lo alimentano, che lo curano così. Poi quando sarà cresciuto sarà autonomo. Col maestro spirituale è la stessa cosa. Il maestro ti indica all'inizio devi seguire scrupolosamente come un bambino non è che può mangiare qualsiasi cosa e gli passi per la testa. Devi seguire scrupolosamente quello che gli dicono di mangiare la mamma e il papà per il suo bene. Poi quando sviluppa e diventa grande fa quello che vuole, mangia quello che vuole, si relagola come vuole. Così il maestro spirituale all'inizio va seguito al dettaglio. Poi, e anche da questo ricordatevi si riconosce un autentico maestro spirituale, che il maestro spirituale lui lavora sin dall'inizio poi per renderti autonomo. Come il bravo genitore lavora sin dall'inizio, sin dai primi giorni di vita per rendere autonomo il figlio poi nel futuro man mano, non per creare una dipendenza. E così il maestro spirituale non deve essere una dipendenza che si aggiunge alle altre dipendenze, deve essere qualcuno che tu segui perché ti liberi progressivamente dalla dipendenza e perfino dalla dipendenza del maestro spirituale. Ma sapete quante volte soprattutto all'inizio perché scattano dei meccanismi di transfert per tutta una serie che adesso ci porterebbero di motivi che ci porterebbero fuori tema, le persone vorrebbero sentirmi in continuazione. Va bene? Chiamarmi tutti i giorni e io devo frenare e dire no, ma che stai facendo? ci sentiamo tra 15-20 giorni e io non sono il tuo babysitter, io non sono il tuo programmatore della mente. Comincia a seguire le indicazioni e a capire che cos'è il Dharma e poi ci sarà un rapporto sereno se no si stavano delle dipendenze che sono del tutto deleterie. Ecco allora che pur ascoltando migliaia di volte cose o recitando mantra senza inserire l'elemento consapevolezza e il freno della compulsione mentale migliaia e migliaia e migliaia di volte non succede nulla. Si può andare avanti così. Ma ci sono stati anche amici nel sangue che dicono io ho seguito per tre anni questo yoga adesso nel giro di neanche 20 giorni ho già avuto più risultati di quei tre anni. E' così. Non importa quanto tu leggi quanti video hai visto perché questo può essere solo un accumulo di conoscenze può essere anche fuorviante. Cioè non è che se tu hai un raffreddore e allora prendi un'aspirina ma neanche lo so i nomi dei farmaci che non ne uso tanti un'aspirina un efferalgan un coeferalgan un antidolorifico guarisci prima se prendi insieme tutte queste cose. Fai un casino ti senti male magari e così non è che poi facendo duemila pratiche mischiando si evolve prima si fa un casino si rimane fermi ed è meglio rimanere fermi che quelli che poi hanno l'illusione di progredire o è ancora peggio perché una suggestione progressiva si può avere attraverso queste pratiche serve il guru come dice Nanaka serve il maestro spirituale altrimenti non si va da nessuna parte eh? E troppo spesso si dà si è disponibile quasi si pretende a volte ma c'è gente che è faticato Bodhidharma andate a vedere la mia playlist sullo Zen grandissimo maestro primo patriarca del buddismo Zen andò in Cina si mise in una grotta seduta davanti al muro va bene e poi e decise di non parlare per nessuno per anni non parlò con nessuno perché disse io dalla meditazione mi volterò dal guardare questo muro solamente quando arriverà il mio vero discepolo un vero discepolo e una volta arrivò un uomo che si chiamava Wi Neng rimase in silenzio si è seduto dietro a Bodhidharma per una giornata intera 24 ore di seguito poi chiese a Bodhidharma ti supplico girati per un attimo e guardami eh e Bodhidharma niente lo sapete cosa fece Wi Neng eh si tagliò un braccio e glielo mise davanti e disse queste parole di Wi Neng a Bodhidharma disse se tu me lo chiedi io taglio anche subito la testa davanti a te e allora Bodhidharma rispose perché capì la serietà di questo discepolo e gli disse ma cosa servirebbe tagliarti la testa e tu sei realmente pronto poi a tagliarti la testa e fu la prima volta che Bodhidharma rivolse la parola a qualcuno dalla sua grotta capì 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 però di avere un discepolo di maiuscola uno che si era tagliato un braccio per avere l'insegnamento qui va bene tutto a suon di euro nella new age avviene no vogliono l'insegnamento no paghi qua paghi là leggi quel libro scopiazzi questa tecnica ma l'insegnamento è qualcosa di molto serio l'insegnamento è qualcosa di veramente molto serio e la scelta di un maestro è anche essa qualcosa di molto serio anche perché parliamoci chiaro anche quella è una grande illusione perché in realtà alla fine è il maestro che scegli te quando il discepolo è pronto incontra il maestro e questa è la verità e ogni passettino che si è fatto sul Dharma non andrà sprecato questa è un'altra grande verità per cui anche chi è capitato col truffatore con Don Nascimento e Vanna Marchi se è una persona in ogni caso sincera troverà il Dharma eppure quell'esperienza rientrerà nella sua armonia alla fine eppure con la sua brutta esperienza del truffatore del essere stato manipolato molto dipende dalla sincerità del cuore tutto dipende dalla sincerità del discepolo perché il maestro poi si accorge di questo altro giorno un amico mi aveva fatto tra l'altro perdere un sacco di tempo in Skype perché io avevo detto subito guarda la condizione per la meditazione profonda è che abbandoni qualsiasi tipo di pratica new age tecnica e cosa e ti dedichi a quello che ti dico io per un periodo finché non sei autonomo e lui mi aveva detto di sì poi è uscito fuori che praticava il Reiki questo qui ma me l'ha detto dopo ore però dopo avermi fatto perdere un sacco di tempo e e poi mi ha detto ma vedi però se non stato onesto perché te l'ho detto potevo anche non dirti perché io non me ne accorgo io lì per lì mi puoi pure fregare va bene ma quando io comincio a darti le tecniche il maestro sa dove ti sta portando tu non lo sai ma il maestro lo sa benissimo e allora se io ti do una tecnica e mi accorgo delle reazioni che tu hai poi a quella tecnica e se la tecnica non funziona mi rendo conto che tu stai facendo qualcosa che non quadra ma sono 35 anni che insegno meditazione vuoi che non me ne renda conto ma me ne rendo conto perfettamente perfettamente è il maestro che sceglie il discepolo ricordatevi e poi tornando a Nanak Nanak gli canta con l'ascolto si riesce a penetrare ciò che è insondabile con l'ascolto i devoti conseguono la beatitudine e il peccato e il dolore vengono distrutti ecco questo canto di Nanak descrive la gloria dell'ascolto sravana l'ascolto può sembrare un'esagerazione ma come è possibile che il dharma possa non posso entrare nel nel dharma attraverso l'ascolto ma anche qui se non sai ascoltare puoi ascoltare tutto quello che ti pare non cambi rimani sempre lo stesso ci sono i trucchi della mente c'è la compulsione della mente che ti porta a non ascoltare voi stessi che state ascoltando il mio video in questo momento eh ma voi pensate che state ascoltando me per tutto il video non avete ascoltato una mia parola avete ascoltato la vostra mente che sta facendo il commento a quello che dico io in alcuni punti dice interessante in altri punti questo sono d'accordo in altri punti questo sono meno d'accordo questo state ascoltando l'ascolto è un'altra cosa chi non medita non sa ascoltare si illude di ascoltare come si illude di ragionare con la propria testa anche perché c'è un sottile gioco psicologico dove una persona ascolta solamente quello che vuole che gli confermi ciò che già crede questo è un trucco della mente ascoltare ciò che vogliamo sentire non quello che ci viene detto a volte mettevo in guardia un paio di amici che erano entrati in questo gruppo scientologi pericolosissimi queste persone scientologi testimoniali di Giova pure pericolosissimi perché poi molti casi di separazione dalle famiglie questi sono dei farabutti che separa i figli dai genitori e così per questi pretesti religiatori un farabutto e io gli parlavo e vedevo che questi non ascoltavano gli facevano dare che questi avevano dato un sacco di soldi a questi farabutti ma lì questi farabutti giocano anche su questo fatto cioè se tu hai investito molto in queste immondizie è molto difficile che poi ti rendi conto e riconosci che tutti i soldi che hai buttato sono stati una truffa e spesso a partire da Vanna Marchi faceva leva su questo no? già sì ha pagato adesso 100 euro la cosa non ha funzionato allora è grave me ne devi dare altri 300 poi quando beccavano la persona fragile poverina gli dicevano allora mi devi dare altri 5000 ma se non ce l'ho 5000 se non ce l'hai fai debiti fatteli prestare perché se no il diavolo qui ci stanno potenze demoniache rischi di morire te e i tuoi figli e questi poveretti ma non non questa gente non ascolta il primo esperiante della mente è proprio questo che ti fa ascoltare solo quello che vuoi sentire e allora ascolti i video di Matt Mazzin belli culturalmente che belli quante cose belle ci dice Matt Mazzin quante belle indicazioni però poi nel momento in cui Matt Mazzin ti dice senza la disciplina e senza la pratica anche i miei video sono immondizia dal punto di vista del Dharma perché non servono a nulla e guardare un mio video un guardare un video sulla tecnica della barca a vela o dell'alpinismo è la stessa identica cosa è un semplice passatempo e il mio video può essere anche gradevole va bene un passatempo gradevole una lezione di cultura ma dal punto di vista termico non serve niente allora ecco quando Matt Mazzin va bene ti dice la pratica la pratica la pratica lì non si ascolta tutto il video va bene bello interessante mi ha arricchito si pensano tante cose poi quando Matt Mazzin ti dice ma senza la pratica tutto questo è inutile perché non si va da nessuna parte no lì ci si chiudono no su quello si lascia andare no detto così una sua opinione quando Matt Mazzin dice senza il maestro non si va da nessuna parte eh quello si lascia stare e allora l'importanza anche dell'ascolto perché c'è questo meccanismo diabolico noi che abbiamo una minima parte delle cose che automaticamente le selezionano noi ci stiamo a ragionare sopra è un processo che viene a livello incoscio e che ci condiziona moltissimo ascoltare solo ciò che vogliamo ascoltare eh e l'altro escluderlo e invece la vera trasformazione comincia proprio quando eh si comincia ad ascoltare risentiamo Guru Nanak con l'ascolto si riesce a penetrare ciò che è insondabile Nanak dice con l'ascolto i devoti conseguono la beatitudine e peccato e dolore vengono distrutti eh saper ascoltare se non sai ascoltare pure qui tutto si complica perché anche questo è collegato come al solito all'ego e solo quando sarai in grado di mettere il tuo modo di pensare che è determinato dai condizionamenti che hai avuto sin dall'infanzia dall'ego comincerai a poter penetrare nelle realtà che cosiddette metafisiche eh se no ascolti qualcuno e appunto gli dai ragione in parte sulle cose che dice che concordano con i tuoi pensieri e il resto si esclude va bene e questo io l'ho visto pure mi dispiace dire questa cosa non l'ho mai nominato ma io andai dai Sai Baba avevo fatto un corso di tre anni di giochi di prestigio precedentemente e quando mi andai dai Sai Baba poi ancora non c'era internet al tempo mi resi conto che faceva dei volgari giochi di prestigio faceva gli stessi movimenti che io ho imparato per fare i giochi di prestigio ma amici quando tornai in Italia gli dissi guardate che questo era facevano parte di un centro di Sebab gli dissi mi dispiace dirvi questa cosa perché io rispetto il cammino però ve la devo dire perché alla verità questo fa dei trucchi non materializza assolutamente nulla quelle cose le so fare molte di quelle cose quelle materializzazioni di anelli le so fare pure io e sono trucchi la differenza tra me e Sebab è che io ti dico io sono un prestigiatore e lui ti dice io ho i poteri spirituali quindi saper ascoltare e imparare a vedere cari amici riprenderemo il discorso nel prossimo video per il momento è tutto Marco Cosmo Cosmo